Cardine, dottoressa Gandolfi, torno dopo da lei, sapete perché? Invito anche il nostro pubblico a casa, perché abbiamo visto Barcellona, che secondo me è una città che poi amiamo tutti, è bellissima, c'è poco da fare, e abbiamo visto anche molto tecnologica e molto all'avanguardia. Andiamo a vedere, però veniamo nel nostro paese, andiamo a vedere Torino, con delle immagini stupende dei drone, vediamo insieme e poi ne parliamo. Vediamo. Già oggi controllano dall'alto strade, ponti e infrastrutture a rischio, ma in un prossimo futuro potrebbero ad esempio anche distribuire piccoli pacchi in città. Molti i servizi e le funzioni che potrebbero essere affidati ai droni, o come si chiamano in linguaggio tecnico, gli areomobili a pilotaggio remoto, che a Torino sono già diventati protagonisti della festa in cielo per San Giovanni. Non solo spettacolo, pilotandoli da terra si può far fare ai droni cose utili alla vita di tutti i giorni, ma chi li guiderà e da dove? E ancora come armonizzare l'uso molto flessibile di questo nuovo strumento volante con la sicurezza nei centri urbani? Si cercherà di capirlo con le ricerche previste dal protocollo siglato dal Comune di Torino e dall'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile. I due enti si sono impegnati a coinvolgere nella sperimentazione anche università, politecnico, imprese e start-up. Parco d'ora e Parco Stura, le due aree torinesi individuate per i test, dei servizi a basso impatto ambientale che potrebbero essere affidati ai droni. Torino, ancora una volta laboratorio di innovazione. Le soluzioni sperimentate sotto la mole, una volta validate dall'ENAC, potranno essere replicate in altre città. Stefano Ciafani, vengo da lei, lega ambiente, perché abbiamo sentito...